E ben a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, ciao a tutti da Tomas Giallorosso Oggi ragazzi siamo qui, tornati sul mio canale per, come avrete letto dal titolo, andare a dare Io andrò a dare le mie personali pagelle di Catanzaro Sassuolo per quanto riguarda ovviamente Calciatori Giallorossi e l'allenatore Mr. Fabio Caserta Detto ciò, come sempre, prima di iniziare vi invito a lasciare un bel pollice sul video Iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti E voi non custano uno invece a me da un supporto enorme Quindi vi prego, se vi piacciono i miei contenuti, fatelo Quindi, grazie mille Attivate anche la campanella se volete, così che ogni uscita di un nuovo video vi arriva la notifica E sarete sempre i primi a vederlo Detto ciò, partiamo subito Parto dal dirvi che andrò, come è successo in una partita contro l'Empore E dare le pagelle prima agli undici titolari Che sono partiti dunque nella formazione titolare del Catanzaro Contro il Sassuolo in questo caso Poi ai subentrati e all'allenatore, infine Detto ciò, partiamo subito Partiamo ovviamente dalla porta Piccola premessa come è successo con l'Empoli E come farò sempre in queste pagelle di quest'anno Farò sempre il ruolo di partendo da destra Andando fino a sinistra per ogni reparto Come detto, lo stavo dicendo, partiamo dalla porta Pigliacelli A cui ho deciso di dare un 6,5 Ho deciso di dare un 6,5 perché si è sempre fatto a trovare pronto Sia nel tiro nel primo tempo di Torsvert Che comunque non era difficile, però era stato bravo, reattivo A respingere il pallone in calcio d'angolo Ma anche e soprattutto nel copro di testa finale di Russo Che l'ha impegnato molto Il pallone che si è alzato, ha fatto una sorta di pallonbella Andato ad appoggiarsi sotto la traversa Lui ci è arrivato, l'ha tolta Dopo quella parata davvero providenziale Ha vinto anche la sfida di Nervi contro l'Oriente Facendo sbagliare il rigore appunto all'attaccante Nero, verde Passiamo poi alla difesa Difesa 3 per questa partita 1,2,3,5,2 lo ricordo Partiamo dal centrale, dal braccio di destra Ovvero Brighenti A cui ho deciso di dare anche un 6,5 Perché ha fatto una buona partita L'ho valutato con troppa fretta e male Nella sfida di Coppa Italia contro l'Empoli Qua invece ha giocato molto bene Ha giocato di squadra È stato supportato anche dai compagni in difesa E dai compagni generale Ha fatto delle ottime chiusure Ha guidato comunque la difesa con la sua esperienza Dunque un 6,5 se lo prende tutto Passiamo invece al centrale della difesa Ovvero Mattia Santonini Il difessore brasiliano è quello A cui ho deciso di dare il voto più basso della difesa Ho deciso di dargli un 6 E non ho deciso se 5,5 o 6 Alla fine gli do la sufficienza Perché comunque nonostante Anche usate il rigore finale Lì non poteva farci nulla Era l'unica cosa che poteva fare Però nel complesso ha fatto comunque una buona partita Ha evitato anche guai Su un Un cross basso del Sassuolo Alla fine del primo tempo Se non erro E dunque Ha evitato che appunto potesse Fare il gol del 2-0 Momentaneo il Sassuolo Appunto respingendo quel cross basso Addosso al corpo di Bonini Che poi alla sua volta l'ha mandato In corner Ma in genere ha fatto una buona partita Sicuro di sé Nonostante i rumori di mercato Che lo vedevano vicino a Lecce Qualche giorno fa non ha pensato a ciò Ha giocato una buona partita A parte come detto Quel rigore finale Però ripeto Lì non poteva farci nulla Passiamo poi al centrale Il bracetto di sinistra Bonini A cui anche lui do un 6 E non ha deciso se 6 o 6 di più Alla fine do un 6 È vero potrebbe essere stata Un pochino macchiata Nella sua prestazione Da quell'errore là Nel tempo di intervento Nel cercare di intercettare Il passaggio verso Mulattieri Che poi ha portato al gol Appunto del 1-0 Momentaneo del Sassuolo Però in genere ha fatto Una buona partita Quando nel finale del primo tempo Quando Catanzaro è stato sotto Ha provato anche a spingere In avanti la squadra Ha provato anche a fare Diverse sovrapposizioni offensive Ha provato anche di colpi di testa Da calci piazzinati Quindi sicuramente è una buona arma Anche in attacco Passiamo poi al centrocampo Composto a 5 Partendo dalla destra Dove abbiamo Situm E con deciso di dare un 6 di più E non deciso 6 o 6 di più Alla fine ho dato 6 di più Al croato Perché secondo me comunque Soprattutto nel primo tempo Si è fatto vedere molto in avanti Ho riconosciuto il Situm Della scorsa stagione Che si faceva vedere molto in avanti Si faceva molto in avanti L'ha fatto anche questa stagione Ha fatto molto molto bene E per questo mi sento Dalli un 6 di più Nel secondo tempo Si è un po' spento Causa anche Magari dolore alle gambe Comunque aveva avuto Anche un accecco fisico Durante la settimana Era in dubbio Per questa partita Alla fine è stata convocata Anche perché Se no non avremmo avuto Un esterno destro E dunque Ha dovuto tangire i denti Comunque non sembrava Soffrire troppo Però nel secondo tempo Ci sta che magari Potesse essere un pochettino Più sulle gambe Comunque anche in fase difensive È stato quasi impeccabile Passiamo poi Ai Tre centrocampisti centrali Anzi due centrali E poi il trequartista Partendo da Petriccione A cui do un 6 e mezzo È nata da lui L'intuizione del gol Che poi ha portato Al pareggio di Pontisso Sicuramente è un'arma in più In cabina di regia Per il Catanzaro Un giocatore che è sicuramente Molto abile Palla al piede Ha un'ottima visione di gioco Ripeto un'arma in più In generale per il Catanzaro Non solo in cabina di regia E in coppia con Pontisso Quest'anno potrà fare Secondo me Grandi Grandi cose Passiamo poi Proprio a Pontisso A cui do un 7 Pontisso che secondo me Ha fatto un'ottima gara Oltre ad aver segnato il gol Ovviamente del pareggio Per il Catanzaro Comunque siccome ha fatto In generale un'ottima gara Di sacrificio Erano lui e Petriccione Fondamente che impostavano Sempre il gioco Dunque per questo Ho deciso di dargli un 7 Passiamo poi a Pagano Che adoperava sulla tre quarti A cui ho deciso di dare un 6 Un 6 perché Alla fine comunque Il solo ha fatto All'inizio ha sfiorato Rischiato E ha rischiato bene appunto Anche di trovare il gol Del vantaggio Per il Catanzaro Inizio partita Proprio nei primi minuti Con un tiro al volo Su Sponda Se non sbaglio Di Biasci E quindi Sicuramente ecco Un 6 l'umanità Tutto secondo me Potrà crescere molto E far molto molto bene Quest'anno con noi Passiamo poi A Cerisoli Esterno-sinistro A cui anche lui Decide di dare un 6 Lui che teoricamente Se non sbaglio Un terzino-sinistro Adattato per questa partita Esterno-sinistro Dal mister Caserta L'ho visto molto Positivo in avanti Metteva Ha provato a mettere Molti cross dentro Far molte sovrapposizioni Sicuramente Finalmente dopo tanto tempo Si andiene forse Di aver trovato Un terzino-sinistro Che attacca anche L'anno scorso Eravamo abituati A vedere Veroli O Crange Sulla sinistra Che difficilmente Facevano sovrapposizioni In attacco Ma ci sta Perché loro erano centrali Adattati a terzini Mentre adesso abbiamo avuto Giocheremo con Due terzini Turicchia E Ceresoli Di ruolo Quindi teoricamente Dovrebbe essere meglio Anche in fase offensiva Sicuramente Ampi margini Di crescita il ragazzo Però mi è piaciuto Anche lui Tanta grinta Tanta cazzima Passatemi il termine Volentoroso di far bene anche lui Dunque Il Sei non glielo toglie Nessuno Passiamo poi Alle due punte Biasce e Iemello A Biasce ha deciso Di dare sei e mezzo Perché È stato Guerriero Ci ha creduto Fino all'ultimo Soprattutto in quell'azione Che ha portato poi Il gol di Pontisto Nonostante era caduto Ha riuscito comunque A servire l'assist Al compagno Bravi entrambi I credici Ma soprattutto Biasce che appunto Nonostante era caduto Nonostante magari Avesse ravvisato Una trattenuta Che l'arbitro non aveva visto Comunque È riuscito lo stesso A servire appunto Il compagno Che poi ha concluso Alle spalle Di Il rete Alle spalle Di Satalino Invece Giammello Do 6 Ha fatto Il compitino Si è visto poco Ma Diciamo Con questa prima fase Di campionato Magari verrà Fino a quando Il mercato Non sarà ancora Completato al massimo Chiamato forse Un pochettino Anche andare di più A difendere Veniva È stato visto poco Nella gara Contro Sassuolo Faceva più Una fase difensiva Diciamo che Si è sacrificato Molto per la squadra Lo farà sicuramente Ancora Fino a quando Almeno Fino a quando Il mercato Non sarà completato Al 100% Passiamo poi Ai subentrati A cui l'unico Cudo al voto È Pompetti Che è entrato Alla settantasettesimo Al posto Di Pontisso Pompetti Do un 6 Semplicemente Perché è stato chiamato O è stato messo dentro Per difendere il risultato Non ha mai sbagliato Ha toccato davvero Pochi palloni Però Quelli di pochi Che ha toccato Non li ha mai sbagliati Quindi 6 Ci sta Tutto Mentre A Volpe E a Krain Entrati rispettivamente Volpe Per Biasci E Krain Per Ceresoli Sono entrati alla fine Krain Al 91esimo Mentre Volpe All'83esimo Dunque non posso Ovviamente Dargli il voto A Mister Caserta Invece do un bel 7 Perché secondo me A livello tattico L'ha preparata bene C'è ancora da lavorare Come ha detto lui Un pochettino Su alcune situazioni Come per esempio Quella lì Del contropiede finale Di Lorente Che comunque Ha rischiato di perdere La partita Perché alla fine È il risultato È quello che conta Non importa giocare bene Lo dimostra Il Frosino Dell'anno scorso In Serie A Che giocava Un calcio Ottimo Con Di Francesco Ma spesso E volentieri Finiva per prendere Gol stupidi All'ultimo Dunque sicuramente Bisogna ancora lavorare Però le basi Sono buone Detto ciò Fatemi sapere la vostra Qua sotto con un commento Polliciando su video Iscrizione al canale Fatemi sapere appunto Le vostre pagelle Ditemi cosa ne pensate Le mie Niente Quindi polliciando su video Iscrizione al canale Fatemi sapere la vostra Qua sotto con un commento Noi ci vediamo In un prossimo video Ragazzi Bella Grazie